ecco Anche oggi si prospetta una giornata molto impegnativa Va bene, mettiamoci al lavoro Oh, ciao Prego, accomodati pure Tu devi essere la nuova risorsa, giusto? Ti stavamo aspettando Il tuo nome Molto piacere Io sono Ferry ASMR E sono la responsabile di questo primo presidio di ascolto e assistenza ASMR naturalmente Per la gestione dell'emergenza virus Sì, sì, dobbiamo iniziare perché tra poco apriremo ufficialmente Quindi c'è veramente molto lavoro Allora, hai portato un curriculum con te? Grazie Beh, immagino che comunque tu abbia voglia di aiutarci Ti spiego innanzitutto quello che facciamo E poi cercheremo di capire quali delle tue competenze possono essere messe in campo al meglio Per risolvere tutte le questioni più urgenti che si stanno presentando Dunque, nel nostro centro fondamentalmente rispondiamo al telefono E gestiamo diversi tipi di casi Ci sono persone che sono state messe in quarantena Proprio per evitare rischi di contagio E hanno bisogno di noi semplicemente per essere ascoltate Perché si sentono sole C'è qualcuno che invece ha bisogno di beni di primaria necessità Quindi la spesa, ad esempio E in quel caso noi provvediamo a inviare loro attraverso i nostri collaboratori Tutto ciò di cui hanno bisogno Poi ci sono anche persone che soffrono di attacchi di panico e ansia Ed è abbastanza comprensibile in questa situazione E quindi il nostro può essere un aiuto telefonico Oppure un aiuto dal vivo Cioè mandiamo da loro i nostri esperti Per tranquillizzarli Forniamo anche diversi tipi di assistenza Proprio a domicilio Per esempio la pulizia del viso O massaggi E tutto ciò che può servire Per aumentare il benessere delle persone Che in questo momento stanno vivendo situazioni piuttosto difficili Naturalmente adottiamo tutte le precauzioni del caso Per evitare anche per noi i rischi di contagio Sì, comunque vedo qui Che hai già esperienza Nelle pratiche di attenzione personale Ah, ho capito Quindi hai lavorato in un centro olistico E infatti leggo Nel 2012 12 Ottimo, ottimo E le senti invece per quanto riguarda La gestione delle telefonate Come te la cavi? Beh, manca davvero poco all'apertura Quindi oggi potrei mostrarti in diretta Come faccio io Te la senti? Magari inizialmente potresti affiancarmi E sfoggere la mia stessa mansione E in seguito Se ti troverai bene Potrai anche aiutare sul campo Andando proprio a casa delle persone Te la senti? Beh, questo è lo spirito giusto E' proprio bello che In momenti come questo ci si ha voglia Di aiutare gli altri Ed è quello che facciamo qui Dai, allora Ti faccio vedere Come si sviluppa la giornata Ma prima Ti senti tanto per le mani Ecco Prendi un po' anche tu Benissimo Le pratiche igieniche Del momento Ci costringono a non avere molti contatti Almeno fisici Con le persone E quindi Non ci rimane che sviluppare In altri modi Il calore umano Di cui tutti abbiamo bisogno Bene Diamo il via Alle telefonate Ecco C'è già la prima Pronto Sono Veri ASMR Questo è il presidio Di ascolto e assistenza Per la gestione Dell'emergenza virus Con chi ho il piacere di parlare? Sì E in cosa posso esserle utile? Ho capito Ho capito Quindi Lei si trova In una zona gialla Non può uscire di casa Ho capito E da quanti giorni Va avanti questa situazione? Lei presenta sintomi influenzali D'accordo Allora Mi dica Qual è il suo indirizzo Così provvedo A mandarle qualcuno Certamente Sì Numero civico Ok Allora Ha bisogno di medicinali Piveri Ok Pane Pasta Riso Verdure Verdure Ah Sì Questo è un farmaco Che lei Prende senza ricetta Giusto? D'accordo Sì Sì Non dovrebbero esserci problemi Benissimo Ho segnato tutto Adesso Invio l'ordine E tra pochissimo Nel giro di un'ora Sarà subito da lei Un nostro operatore Massi figuri È stato un piacere E Non esiti a richiamarci Se dovesse averne bisogno Grazie A lei Visto? In questo caso È stato Molto molto semplice La persona che ci ha chiamato Aveva bisogno Della spesa Fondamentalmente Qualche volta Diventa un po' più complesso Perché Dobbiamo Gestire Magari Situazioni Di ansia E semplicemente Tranquillizzare Le persone Sì E purtroppo Si sta diffondando Veramente Molto Molto paura Ma noi Siamo qui Proprio Per evitare Che La paura Ci vinca Questa è un'emergenza Che sapremo Affrontare Tutti Al meglio Se Mantendremo La positività E naturalmente Se prenderemo Le giuste Precauzioni Sì Tutte le persone Che chiamano Sono residenti Qui vicino Non riusciamo ancora A coprire Tutto il territorio Nazionale Ovviamente Ma Ci sono Altri centri Come il nostro Che Stanno Per aprire I prossimi giorni Già Ci siamo organizzati Molto bene Dunque Vediamo Ecco Potresti Compilare Questo modulo Per favore Sì Così Intanto Io Invio La chiamata Della telefonata Precedente Ti ringrazio Perfetto Qualcun altro Pronto Sono Fairy ASMR Del presidio di ascolto E assistenza ASMR Per la gestione Dell'emergenza virus Con chi ha il piacere Di parlare Sì È molto giovane Dalla voce Possiamo darci Del tuo Ok Innanzitutto Ti invito A sederti C'è bisogno Di tranquillità In questo momento Capisco che possa essere Complicato Ma sono qui Per ascoltarti Spiegami che cosa è successo Va bene Quindi hai misurato La febbre E hai Giusto qualche linea Di febbre Non spaventarti No No Assolutamente Adesso Tutto quello che dobbiamo fare È avvertire Le autorità In modo da escludere La presenza Del virus Hai avuto Qualche altro sintomo A parte la febbre No Va bene E nei giorni scorsi Hai avuto contatti Con delle persone infette O potenzialmente Contagiate Nessun contatto Allora Diciamo che Le probabilità Sono piuttosto basse Ma è comunque Fatto benissimo A chiamarci Allora Vuoi provvedere Tu ad avvertire Le autorità Salutari Oppure Preferisci che lo faccia Io per te D'accordo Ho bisogno Dei tuoi Recapiti Sì Bene E il tuo indirizzo? E il cognome Sul citofono Benissimo Ti invito A non uscire Ovviamente Nel frattempo C'è qualcosa Che posso fare Per farti sentire meglio Per tranquillizzarti Per tranquillizzarti Oh sì 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 Va benissimo Ok Ho capito Allora Teston clicking Ti rilassa molto Questo trigger E questo è il nostro scopo Intanto Ti avviso Che Al numero Di cellulare Che mi hai lasciato Ti invierò Un link E Con questo link Potrai Accedere A diversi video ASMR Che fanno Il caso tuo Te li preparo proprio Appena Concludiamo la telefonata D'accordo? Va bene Adesso Chiudi gli occhi E' vero Ha proprio Un potere Tranquillizzante Ti senti meglio D'accordo Allora Ti invio Questo link Tramite Il tuo telefono E Ti invio anche Il nostro Numero speciale Che potrai Chiamare In caso di emergenza D'accordo E Tra poco Sicuramente Sarei anche Ricontattato Dalle autorità sanitarie Per effettuare Le verifiche Del caso Non devi fare Non devi fare nient'altro Attendi solo Qualche minuto A presto Ciao Ciao Un altro caso E' piuttosto E' piuttosto spaventato Sì Ma il don't clicking E' stato Magico Ecco qui Ho inviato Direttamente Al suo numero Tutto ciò Di cui ha bisogno E ho anche Avertito Le autorità sanitarie Spero Stia meglio Allora Che ne pensi? Te la senti Di aiutarmi? Perfetto Non mi resta anche Darti il benvenuto Allora Da oggi Sei ufficialmente Parte del nostro team Sì Puoi iniziare da subito Vieni Mettiamoci al lavoro Adesso Tocca a te Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti E clicca sulla campanella Per non perderci di vista Oppure abbonati Se vuoi sostenermi Ed entrare a far parte Della Fairy Crew Ah E se vuoi continuare A rilassarti Clicca su uno Di questi altri video Che ti lascio qui intorno Penso possano piacerti Buonanotte